Alibin TV Non capisco perché tutti quanti colpinarò insistentemente a chiamarmi Donatella Oh 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 bella Guarda dritto avanti a te dottore Chiamami e richiamami è un onore Guarda bene avanti a te signore Chiamami soltanto un mistrettore Non capisco perché tutti quanti colpinarò insistentemente a chiamarmi Donatella Oh oh bella Ah lavati i fanari per favore Cerca finalmente di imparare Qui c'è scritto solo un mistrettore E chiamami soltanto un mistrettore 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.